Islam tra guerra e pace, questo è il titolo del testo presentato da Antonella Colonna Vilasi per la 28esima giornata del Settembre Culturale al Castello. Sì, desidero innanzitutto rimarcare e ringraziare la presenza dell'autrice di questa sera che già avrebbe dovuto partecipare alla scorsa edizione del Settembre Culturale, poi per ragioni di carattere logistiche non è stato possibile e quindi sono stato ben dietro di aver inserito la sua nuova opera nell'edizione di quest'anno. Poi in modo particolare offre degli spunti e delle tematiche veramente interessanti e quindi siamo ansiosi di sentire la sua voce, stasera ci presenterà questo libro che sicuramente arricchirà il nostro bagaglio culturale e arricchirà la sua presenza e la nostra rassegna. Con questo nuovo libro, Islam tra pace e guerra, mi interessa alla struttura e alla composizione e all'evoluzione dei movimenti terroristici jihadisti islamici. L'Islam quindi che da un lato è spinto da tendenze integraliste e poi un Islam invece moderato che è l'Islam con cui tutti vogliamo appunto parlare e cerchiamo di interagire. Quindi questo libro nasce a dieci anni dall'attentato alle torri gemelle ed è una sorta di disamina di tutti i movimenti che dalla fine del califato si sono avvicendati nei paesi del Medio Oriente e nel Nord Africa, nel Mediterraneo. Nell'introduzione il magistrato Rosario Priore l'ha definito un vero e proprio trattato sulle organizzazioni terroristiche islamiche e musulmane. Una bella soddisfazione insomma. Sì, è un tentativo appunto di cercare di capire le motivazioni appunto del jihad, di questo sforzo terroristico che purtroppo molti morti e molti attentati ha causato. Vi è un'importante intervista al segretario generale della conferenza islamica in Italia che è un italiano convertito all'Islam nobile e un'intervista a un palestinese, un ingegnere palestinese perfettamente integrato in Italia che lavora, ha due figli, ha una moglie e rigetta tutto ciò che è integralismo, tutto ciò che è violenza. Vogliamo fare la differenza tra cattolici e islamici? Sono convinta consapevolmente che ci accomuna noi cattolici ebrei e appunto musulmani un unico Dio. Sono tre grandi apporti monoteistici, tre grandi religioni. Credo molto nella marcia di Assisi, nella possibilità di comunicare, di interagire e di parlarsi. Bisogna parlare con l'altro e cercare di intavolare dei momenti di comprensione reciproca. In fondo abbiamo un unico Dio che si chiami Allah, che si chiami Yahweh in ebraico, che si chiami Dio per i cattolici è sempre un unico Dio. Grazie a tutti.